Approvata dal Consiglio Provinciale di Agrigento la proposta di modifica al regolamento di contabilità che regola il controllo sugli equilibri finanziari dell'ente. Inoltre ieri sera sono state approvate le modifiche al regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori provinciali che prevede un adeguamento agli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive di governo e quelle al regolamento per la disciplina delle emissioni e rimborso delle spese sostenute dagli amministratori che consentirà di ridurre le spese della politica e in particolare quelle relative ai rimborsi spesa e ai viaggi degli amministratori. Apprezzato durante le comunicazioni l'intervento del neoassessore Salvatore Scozzeri il quale ha assicurato una reale collaborazione con il Consiglio Provinciale nei pochi mesi che restano alla scadenza del mandato. Il consigliere Matteo Ruvolo dell'Udc nel salutare positivamente la nomina di Scozzeri ha proposto l'uso di un nuovo tracciato in territorio di Ribera per accorciare di 20 chilometri la deviazione sulla statale 115 utilizzando il tracciato di una strada intercomunale che ha però bisogno di interventi di manutenzione. La proposta è stata avanzata perché i lavori sulla statale 115 non sono ancora iniziati nonostante l'ANAS abbia già appaltato il rifacimento del ponte sul fiume Verdura. L'assessore Scozzeri che ha avuto la delega alla viabilità ha proposto giovedì prossimo un sopralluogo con la Commissione Lavori Pubblici per valutare la fattibilità della proposta fatta dal consigliere Ruvolo. Al termine delle comunicazioni il presidente del consiglio Raimondo Buscemi ha letto il documento elaborato dalla Commissione dei Capigruppo contro il disegno di legge regionale sull'abolizione delle province che è stato approvato all'unanimità dal consiglio. Il documento sarà adesso inviato al governo regionale e all'Assemblea regionale siciliana. Nel documento si chiede tra l'altro l'abbattimento dei costi della politica e la razionalizzazione delle spese mantenendo le elezioni dirette dei consiglieri dei liberi consorsi e l'aumento delle competenze delle attuali province. Rinviata la discussione dell'interrogazione del consigliere Carmelo D'Angelo sulla provinciale 52 in territorio di Ravanusa per l'assenza del proponente e la mozione del consigliere Guarraci riguardante l'ufficializzazione della posizione politica del presidente della provincia per l'assenza dello stesso presidente Dorsi. Il consiglio ha approvato all'unanimità la mozione del consigliere Orazio Guarraci sul regolamento per l'istituzione e funzionamento della consulta provinciale dei trasporti mentre a maggioranza è passato l'atto di indirizzo per le società partecipate della provincia di Agrigento ai fini del contenimento della spesa e del rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza.